mister oggi andiamo sul banalissimo visto che andato a giocare in un autodromo come non pensare alla formula 1 e ai gran premi non parleremo di mercedes e ferrari per amor di dio però a me interessa un punto particolare quello che di solito fa vincere i gran premi il pit stop quando le macchine si fermano si cambiano le gomme si riparte con tutt'altro grip arriverà il momento come come lo scegli soprattutto se lo dice la partita abbiamo visto quanto importante sia cambiare e cambiare con con gente che possa che ha dentro anche mentalmente la voglia di cambiarti la partita oltre che nelle qualità tecniche noi questo abbiamo quasi sempre avuto è stato un grandissimo merito e adesso stiamo recuperando un po tutti i giocatori diventa diventa anche bello perché i ragazzi io sono stato chiaro siamo se se anche a 45esimo dovessi fare dei cambi non devono prendersela a male devono sapere che abbiamo dei giocatori che non sono stati scelti dal primo minuto che quindi valgono la titolarità e che hanno dentro voglia e capacità di cambiare la partita questo ci può permettere di a parte di cambiare dei riferimenti all'avversario ma di avere gamba per tutti i 90 minuti io vedo ad esempio che con l'imola lo fa spesso al sessantesimo cambia i due attaccanti quindi quella cosa lì l'ha sempre avuta noi quando abbiamo avuto la possibilità di farlo molto spesso abbiamo portato a casa a risultato positivo e quindi il pit stop diventa una situazione importante senti situazione fisica tutti a posto tutti tranquilli se toccando naso dico che in questo momento stiamo recuperando tutti a parte beccaro mensa però è praticamente recuperato e baritti a posto quindi ci siamo quasi tutti non resta che andare a prendere chi parte dalla pole position in questo momento sì noi dobbiamo pensare adesso di andare a imola e cercare di far risultato contro una squadra forte e noi dobbiamo essere molto bravi a farli e poi vedremo al novantesimo quello che sarà e poi vedremo al prossimo episodio